Il Vangelo oggi ci presenta due miracoli di Gesù, la guarigione di una donna che aveva perdite di sangue e la rianimazione della figlia di Gairo, uno dei capi della sinagoga, una bambina di 12 anni che era morta. La donna è colpita da una malattia che dura da 12 anni, una malattia umiliante che la colpisce nella sua intimità in quella parte del corpo che dovrebbe essere sorgente di vita e soprattutto è causa di impurità religiosa. Il sangue infatti per la cultura ebraica è il simbolo della vita ma quando esce dal corpo simboleggia o richiama la morte e la legge stabilisce che colei che è affetta da perdita di sangue venga considerata come una lebrosa, esclusa, evitata. Ebbene la donna si avvicina alle spalle di Gesù, gli tocca il mantello e si sente guarita. Soffermiamoci su alcuni particolari significativi. Intanto la donna è senza nome ed è impura da 12 anni. Il numero 12 è importante, è lo stesso degli anni della bambina, la figlia di Gairo, che Gesù rianimerà. L'età della bambina che è morta e il numero di anni da cui la donna è affetta dalla malattia, cioè 12, sono il simbolo delle 12 tribù che costituiscono il popolo di Israele. Oggi quel popolo siamo noi. L'impurità della donna e l'assenza di vita della bambina, che Gesù poi rianimerà, sono proprio la condizione di molti cristiani, malati spiritualmente o morti spiritualmente. Gesù non evita la malattia, anzi chiama la donna e le chiede di mettersi nel mezzo, non per umiliarla, ma perché tutti possano rispecchiare in lei la propria condizione. E la donna appare impaurita, come se l'essere malata o l'aver bisogno di Gesù fosse una colpa, ma non c'è nessuna malattia, né fisica né morale, che costituisca un impedimento per accostarsi a Dio. Gesù era circondato dalla folla, molte persone gli stavano attorno, magari lo spingono e lo intralciano, eppure egli afferma che una sola persona lo ha toccato. Solo la donna malata lo ha toccato con fede. La folla può rappresentare anche noi che siamo vicini al Maestro, abbiamo la possibilità di ascoltare la sua parola e di, in virgolette, toccarlo con i sacramenti. Se la nostra vita non viene trasformata, se manca la fede, significa che siamo rimasti folla, senza mai toccare realmente Gesù. La sua parola è un suono che entra nelle orecchie, ma non giunge al cuore. L'atteggiamento di Gesù di fronte alla donna è poi anche un invito a non fuggire di fronte a chi è ritenuto impuro. Il cristiano non dovrebbe temere di avvicinarsi a coloro che altri evitano. Il suo unico scopo è cercare di dare la vita a un fratello, ed è ciò che fa Gesù con la bambina, la figlia di Gairo. Di fronte alla morte Gesù chiede la fede, poi rianima la fanciulla. Con questo gesto Gesù dice che la morte non è definitiva, che lui l'ha trasformata in una nuova nascita, verso la vita eterna. Così ci vuol dire che di fronte a lui non esistono situazioni irrecuperabili. Quando ci si imbatte in persone praticamente morte da un punto di vista spirituale, molti fanno come gli amici di Gairo, dicendo lassi a perdere, non vale la pena insistere. A queste parole Gesù ripete non temere, continua solo ad avere fede. Ecco perché la Chiesa, e penso in particolare alla nostra Chiesa piacentina, si avvicina a persone malate nel corpo e nello spirito, quelle persone che tutti evitano.